Ciao Laura! Ciao ciao! Come stai? Molto bene! Che hai fatto questo pomeriggio? Ah, grazie per la domanda! Oggi pomeriggio ho cucinato e ho preparato queste fantastiche lasagne, che sono non solo belle a vedersi, ma sono buonissime e sono fatte con un ragù di salsicce di maiale e macinato di bovino, sono fatte con la besciamella e ovviamente le lasagne, la noce moscata e tutto il resto. E ora, siccome è ancora presto, come potete vedere sono ancora le 6.20, mangiaremo più tardi, faremo anche il pesto, con il basilico comprato ieri a Victoria Market. E su questa bellissima immagine di frutta e basilico e pesto genovese, qui in Australia, vi saluto e mu lo chef vi rimando alla prossima puntata. Grazie!